Se io ti dico parole come di, a, per, tra e in, che sono delle preposizioni, come le usi per esprimere il tempo? Lo vediamo nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante d'italiano per stranieri. Nel video di oggi parliamo di un argomento molto amato da voi studenti le preposizioni. A volte le preposizioni possono causare qualche problemino, ma non preoccuparti perché dopo la lezione di oggi tutto sarà molto più chiaro. Prima di iniziare però voglio anche ricordarti che anche per questa lezione abbiamo preparato per te un fantastico pdf con tutti gli appunti. Quindi se vuoi un bel documento con tutti gli appunti di questa lezione e anche tutte le frasi che usiamo come esempio, puoi scaricare il pdf cliccando sul link qui sotto in descrizione. Benissimo, adesso possiamo iniziare con la lezione di oggi, però prima di parlare delle preposizioni di tempo nello specifico voglio fare una distinzione di tre tipologie di frasi di tempo. Infatti noi possiamo avere delle frasi che indicano un momento preciso nel tempo, nel presente, nel passato, nel futuro. Per esempio sono nato nel 1997, qui io sto dicendo un momento preciso, l'anno 1997. Oppure possiamo avere delle frasi che indicano l'inizio e la fine di un'azione. Per esempio la scuola è aperta dalle 8 alle 14. In questo caso io dico che l'azione inizia alle 8 e finisce alle 14. Oppure possiamo avere anche delle frasi che indicano la durata di un'azione. Per esempio, vivo in Italia da dieci anni, qui indico la durata dell'azione, dieci anni. Ora vediamo ogni singola situazione in dettaglio e partiamo dalle frasi che indicano un momento preciso nel tempo. Di solito, per fare questo in italiano, usiamo la preposizione in. Questa preposizione è unita all'articolo, soprattutto quando parliamo di anni. Per esempio, di nuovo, io sono nato nel 1997, dove nel è l'unione di in più il. Oppure nel 2023 la Disney ha compiuto 100 anni. Oppure ancora, nel 2035 non sarà più possibile comprare automobili a benzina o diesel in Europa. Quindi qui noi stiamo usando in più l'articolo per indicare un momento preciso, un anno preciso nel passato o nel futuro. Se invece il momento preciso non è un anno ma un mese, allora possiamo usare la preposizione a o la preposizione in. Ti dico la verità, io preferisco la preposizione a, però tutte e due sono corrette. Per esempio, a marzo parto per la Germania o anche in marzo parto per la Germania. Il compleanno di mia madre è a dicembre, il compleanno di mia madre è in dicembre. Se invece il momento preciso è un orario, un'ora, allora dobbiamo usare la preposizione a più l'articolo femminile plurale le. Per esempio, ci vediamo alle diciassette, ci vediamo alle diciassette. Attenzione però, se abbiamo l'una, quindi le tredici, dobbiamo usare l'articolo singolare L apostrofo, quindi a luna, a luna. Se invece abbiamo mezzogiorno o mezzanotte non dobbiamo usare l'articolo, quindi a mezzogiorno e a mezzanotte. Con le ore, però, possiamo usare anche la preposizione per. Attenzione però, quando usiamo la preposizione per è perché vogliamo dare un orario, però un orario approssimativo, non vogliamo essere troppo precisi. Per esempio, ci vediamo per le diciassette, per le diciassette. In questo caso io sto dicendo che ci vediamo intorno a quell'ora, circa a quell'ora. Forse non sono le diciassette precise, forse sono le diciassette 5 e 10 e 15, comunque più o meno quell'ora. Quindi usiamo per con un orario quando vogliamo dare un orario approssimativo. Per finire, quando vogliamo indicare un momento preciso nel futuro, a partire da ora, dobbiamo usare la preposizione tra o anche fra. Per esempio, ci vediamo tra due ore. Che cosa significa questa frase? Che a partire da adesso dobbiamo aspettare due ore e poi ci vediamo. Quindi se io dico ci vediamo tra due ore e ora sono le quattro di pomeriggio, significa che ci vediamo alle sei di sera. Hai capito? Oppure arrivo tra dieci minuti, quindi dieci minuti a partire da ora. O ancora tra mezz'ora sono lì, cioè a partire da ora, aspetta mezz'ora e io arrivo. Sarò lì. Chiaramente questo funziona anche con i mesi, con gli anni, però attenzione a un errore molto molto comune. Confondere la preposizione tra con la preposizione in. Infatti spesso sento alcuni miei studenti, soprattutto quelli che parlano inglese, dire ci vediamo in cinque minuti invece di ci vediamo tra cinque minuti. Questo è un errore e ti spiego perché. Possiamo usare la preposizione in con il tempo, ma per indicare la quantità di tempo necessaria per fare quell'attività. Per esempio, ha riparato il computer in solo un'ora. È bravissimo, ha riparato il computer in solo un'ora. Quindi in un'ora che cosa significa? Beh, che la quantità di tempo necessaria per riparare il computer è stata un'ora. Oppure dovrò preparare gli esami per l'università in due settimane sarà impossibile. Dovrò preparare gli esami in due settimane, cioè il tempo che io ho per preparare gli esami in due settimane. Quindi capisci la differenza tra in e tra? In indica la quantità di tempo, il tempo necessario. Invece tra indica semplicemente un momento nel futuro a partire da ora. Guardiamo queste due frasi, sono molto interessanti. Leggerò il libro tra una settimana e leggerò il libro in una settimana. Qual è la differenza tra queste due frasi? Pensa, ti do qualche secondo per pensare. Se vuoi puoi mettere anche in pausa il video. Hai capito che cosa significano queste due frasi? Qual è la differenza? Leggerò il libro tra una settimana significa che io tra una settimana, quindi una settimana a partire da ora, inizierò a leggere il libro. Quindi se oggi è lunedì, lunedì prossimo inizierò a leggere il libro. Invece leggerò il libro in una settimana significa che il tempo necessario di cui ho bisogno per leggere il libro è una settimana. Quindi io in una settimana finisco il libro, ma quando inizio a leggere il libro non è importante, ma la quantità di tempo necessaria per farlo, per leggere il libro è una settimana. Questa è una grande differenza, quindi non confonderti. Ora passiamo al prossimo gruppo di frasi. L'inizio è la fine di un'azione, però prima di andare avanti voglio chiederti un piccolo favore, quello di mettere un bel mi piace a questo video se lo stai trovando utile. Infatti se tu lasci mi piace ai nostri video, questo ci aiuta incredibilmente perché YouTube capisce che questi video sono buoni, sono interessanti, sono utili e quindi YouTube li consiglierà a tante altre persone che studiano l'italiano come te. Quindi se vuoi supportare il nostro lavoro la cosa più facile che puoi fare è semplicemente mettere mi piace, quindi grazie mille. Adesso andiamo avanti e parliamo dell'altro gruppo, le frasi di tempo che esprimono l'inizio e la fine di un'azione. Il modo più comune per esprimere questo concetto è usando le preposizioni DA e A. DA con l'inizio dell'azione e A con la fine. Generalmente usiamo anche l'articolo, per esempio lavoro tutte le settimane dal lunedì al venerdì. Dal lunedì, cioè l'azione di lavorare inizia il lunedì, al venerdì, cioè l'azione di lavorare finisce il venerdì. Oppure l'ufficio è aperto dalle 9 alle 18, dalle 9 alle 18. Se invece vogliamo indicare il momento in cui si svolge un'azione, ma non sappiamo chiaramente l'inizio e la fine dell'azione, ma sappiamo che succederà in quel periodo di tempo, allora possiamo usare TRA, E, E. Per esempio, ci vediamo tra lunedì e mercoledì. Ti faccio sapere perché non so ancora quando sarò libero. Ci vediamo tra lunedì e mercoledì. Ora, io sono molto impegnato, quindi purtroppo non so esattamente il giorno quando riusciremo a vederci, a uscire a fare un aperitivo, una passeggiata, ma so che questa azione succederà in un periodo compreso tra lunedì e mercoledì. Quindi ci vediamo lunedì, o martedì o mercoledì. Uno di questi tre giorni, hai capito? Oppure andrò a Milano tra Natale e Capodanno, tra Natale e Capodanno, cioè in mezzo a queste due feste, in un periodo compreso tra Natale e Capodanno. E ora passiamo all'ultimo gruppo di frasi, quelle che servono per indicare la quantità di tempo, la durata di un'azione. Qui usiamo le preposizioni DA e PER. Iniziamo da PER. Vediamo questa frase. Abbiamo fatto una passeggiata per due ore. Abbiamo fatto una passeggiata per due ore. Quanto è durata questa passeggiata? Due ore. Quindi semplicemente PER serve per descrivere la quantità di tempo, la durata di un'azione. Noi abbiamo passeggiato per due ore, quindi abbiamo iniziato alle 5 e abbiamo finito alle 7, quindi due ore di passeggiata. Oppure andrò a correre per mezz'ora. Vuoi venire? Cioè la durata di questa azione futura di correre sarà due ore. Vuoi venire con me? Quindi qui capiamo che possiamo usare PER per indicare la durata di un'azione nel passato ma anche nel futuro. Ora vediamo qualche esempio con DA. Per esempio, vivo in Italia da vent'anni. Vivo in Italia da vent'anni. Cosa significa questa frase? Beh, che io ho iniziato a vivere in Italia vent'anni fa, ma oggi, ancora adesso nel presente, io continuo a vivere in Italia. Quindi la durata della mia azione è vent'anni perché è iniziata vent'anni fa, ma continua nel presente, questo è molto importante. Oppure Mauro Rossi è il direttore di questa azienda da 40 anni. Quindi Mauro Rossi ha iniziato a essere il direttore 40 anni fa, ma ancora oggi è il direttore. Quindi la grande differenza tra DA e PER è che usiamo PER per indicare la durata di un'azione, ma questa durata è limitata, cioè questa azione inizia e finisce nel passato o nel futuro. Invece quando usiamo DA indichiamo sempre la durata di questa azione, ma questa azione ha un inizio, ma teoricamente non ha una fine perché questa azione continua nel presente. Se dico vivo in Italia da vent'anni, l'azione ha un inizio molto chiaro vent'anni fa, ma non ha una fine perché continua ancora oggi. Per questo motivo infatti, cioè per il fatto che DA esprime l'idea di un'azione iniziata nel passato, ma che continua nel presente, usiamo come verbo il presente. Questo è molto importante. Vivo in Italia da vent'anni, Mauro Rossi è il direttore di questa azienda da 40 anni, usiamo sempre il presente. Sì, poi ci sono alcuni casi in cui possiamo usare anche il passato, ma magari ne parliamo in un altro video. Benissimo, abbiamo fatto davvero una bella ripetizione delle preposizioni di tempo. Ora non dimenticare di scaricare il pdf con gli appunti di questa lezione, clicca sempre sul link in descrizione e di nuovo se il video ti è piaciuto lascia un bel mi piace, questo ci aiuta tanto. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perderti tutti i video futuri, anche perché presto arriveranno delle notizie fantastiche. Noi ci vediamo nella prossima lezione, un abbraccio dall'Italia, ciao!